E' l'ultimo tramonto dell'anno quando Naziro Mussa, 23 anni, originario del Togo, ha tentato senza riuscirci di difendersi dalla furia di un connazionale. Decisiva sulla morte quasi immediata, una coltellata al centro del torace, inflitta con violenza intorno alle 17.45 all'angolo tra Via Domiziana e Via Monti. Si è chiuso nel sangue il 2011 a Castelvolturno, dove la polizia locale ha risposto all'allarme lanciato da un residente del luogo che ha avvertito il commissariato sulla presenza del corpo, ormai senza vita, del togolese, sdraiato in strada in mezzo al silenzio. L'ambulanza, a corso sul posto, non ha potuto fare altro che accertare il decesso, trasportando in seguito la salma fino all'obitorio dell'ospedale Moscati di Aversa. Gli inquirenti hanno tentato di ricostruire gli ultimi momenti di vita del giovane immigrato, raccontando che il ragazzo, nel bel mezzo di una discussione, è stato colpito dal compagno, probabilmente con un coltello da cucina con lama a punta, che gli ha trafitto il torace per circa 20 cm di profondità. Un fendente lanciato con ferocia, dopo che i primi tentativi erano andati a vuoto. L'aggressore è scappato, lasciando Naziro Mussà sull'asfalto senza vita. Sul luogo sono invece a corso gli amici e i conquilini del giovane, condotti poi al commissariato, dove hanno raccontato di conoscere il probabile assassino. Il nome fatto agli investigatori corrisponde a quello di un altro immigrato di origine togolese, che aveva conosciuto Naziro al centro d'accoglienza di immigrati di Isola Caporizzuto. La vittima era arrivata nel nostro paese già maggiorenne, quasi quattro anni fa, sbarcando come tanti a Lampedusa. Poi si era trasferito in Calabria, dove aveva conosciuto chi, ora, è indagato come killer del suo assassino. In possesso di un temporaneo permesso di soggiorno, entrambi si erano trasferiti a Castelvolturno, in attesa dell'accettazione della richiesta di asilo politico. L'ultima sera dell'anno, per motivi sconosciuti, i connazionali avrebbero avuto un diverbio, sfociato poi nella morte di Naziro, che, secondo la polizia, aveva anche precedenti penali. Tra il dolore per la morte del loro fratello, gli amici di Naziro attendono solo il finale di questo ennesimo assurdo episodio. Grazie. Grazie.